ciao ragazzi oggi siamo a Yash e siamo usciti per fare un tour della città infatti abbiamo con noi anche una guida che ci racconterà la storia di questa bellissima città ci farà vedere i posti più belli dove poter andare a mangiare dove fare la sera una passeggiata e quindi se volete vedere anche voi seguiteci allora mi dica che cosa è piaciuto di più di questo piccolo giro che abbiamo abbiamo fatto a me è piaciuto che avevo genero già avvenuto qui da solo oggi c'era qualcuno che mi spiegava quello che vedevo quindi è stata una bella cosa innanzitutto mi è piaciuto diciamo la nostra guida che è stata veramente simpatica e molto socievole ha spiegato bene tutte le varie diciamo le strutture che abbiamo visitato quindi mi è piaciuto molto vedere questa questa nuova città che non avevo mai visto non sapevo neanche della conoscenza appunto e poi sono accoglienti molto gentili pulita una bella città grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti